ragazzi di notte lui non lo conoscete c'era nei video precedenti e di notte come vi ha promesso la scuola abbandonata sei pronto psicologicamente le notte fa tutto un altro effetto niente si niente andami vieni sopra si è spento si è quando siamo scappati la scuola c'è più forte la porta qua ce ne stanno altri questo era da Giavomo tranquillo qua non so che cazzo la parte te è tutta l'altra parte oddio sto corretto io è infernale non sento guardate perché ce ne hai tutte le spalle aspetta via accompagnami il primo segreto che sto a fare de notte spengo il flash e vi faccio vedere che è buio vedete oh porca dobbia che cazzo è passato qua ma che cazzo è passato qua ma è impossibile una cosa del genere io sto sola pure tanto molle perché non siete visciò ci sta in pazzo nel specchio oddio ah la tagliperina tagliperina o sciroppo come il piano te piscio ma che cazzo dici ma porca però io ho sentito lo scrocco dalla porta ma perché ha scroccato senza plastica è birra è birra è birra cazzo è birra cazzo è birra cazzo oddio guarda ste porte fedeli guarda che cazzo hanno fatto tutto un cerchio intorno al seno e tutte manate ma che cazzo è ste roba ma perché un cerchio hanno fatto e tutte manate ma che cazzo è un cerchio perché cazzo è un cerchio il diritto ma che cazzo è un cerchio comunque per forza andate abbiamo sentito i passi esci sempre a testa bassa Lorenzo e